In democrazia ognuno può esprimere la propria opinione. In classe alza la mano anche tu e di la tua. Non essere timido, forza! Non te ne mentirai! La democrazia è la forma di governo in cui il potere appartiene al popolo. In classe il popolo siamo noi. Sì, ovviamente, il popolo lo potere appartiene al popolo con noi. La democrazia gode di totale libertà. In classe nostra c'è libertà. E poi la nostra classe fa parte della scuola. E la scuola fa parte della società. La democrazia si gode al aperto confronto. In classe ci affrontiamo, richiediamo, paragoniamo le nostre opinioni e alla fine ci faremo la propria scuola. La democrazia stabilisce la calma, crea serenità e felicità. In classe il risultato di ogni nostra emozione è frutto della nostra personale vocazione. Non c'è nessuna prepotenza e nessuna peligenza. In classe la tua idea è politica, sportiva, sociale, organizzativa, progettuale. Vale proprio come la mia. In un paese giusto, in cui si governa insieme, le leggi e le sceglie il popolo, tramite il voto e il referendum. Grazie a tutti!